La Nissa perde ancora, ma stavolta non soltanto per colpa dei propri limiti. A giovarsi di questo ennesimo scivolone dei nisseni è stato la Cireale di Marra, che ha raccolto più di quanto effettivamente meritasse. Contro gli accesi, infatti, biancoscudate di fama, pur con evidenti limiti tecnici, stavano giocando senza timore reverenziale, galvanizzati forse da tre innessi dell'ultima ora, ma al quattordicesimo il direttore di gara ha ritenuto falloso il contatto innato ai nisseni tra Conigliaro e Rabbena. Il conseguente calcio di rigore è stato trasformato dallo stesso Rabbeni. La Nissa ha provato a reagire con Iuri Di Marco al diciassettesimo, ma il tiro è risultato alto, mentre al diciannovesimo Rabbeni ha concluso a rete di testa costringendo un difensore nisseno al salvataggio sulla linea. Gli accesi, ancora insidiosi al venticinquesimo con un tiro di Maesano, un minuto dopo hanno costruito una bella trama con cross di Macri, rovesciata di Maesano e colpo di testa di Rabbeni facilmente controllato da Amendo. Al trentunesimo Bicabadan ha cercato la rete direttamente sul calcio di punizione, ma il tiro è stato deviato da un difensore in barriera. Al trentatresimo, secondo gol della Cireale, anche questo contestato perché la palla lavorata da Rabbeni prima del cross aveva oltrepassato sia pure di poco la linea di fondo. A mandare il pallone alle spalle di Amendola ha poi provveduto Davide Di Marco con un gol in tappento. Il gol del 3-0 a Cese è stato realizzato al trentattesimo ancora da Rabbeni, involatosi sul filo del fuorigioco. Prima del riposo ha tentato la conclusione Maesano, ma la palla ha superato la traversa. È stato invece senza ombre il quarto gol a Cese, realizzato ancora da Rabbeni, che nella sua città natale contro la sua ex squadra è stato protagonista assoluto con una tripletta. All'undicesimo ci ha provato Maesano con un tiro dal limite a cui Amendola si è opposto con Bravura. Poi nulla più sino alla fine, a parte un nuovo tentativo degli eccesi al quarantatresimo con Amendola che ha evitato la capitolazione con un doppio intervento. Grazie. 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 Grazie.